Niccolò, Vincenzo, Sara, Maria Francesca, Maria Giulia, Naima, Samuele, Matteo, Leonardo, Cristian, Sette, sei, nove anni li compio a maggio, otto, nove, otto, otto anni, dieci, cinque, le wigs, le vincivezze, Alvin, perché è proprio un pazzo scatenato come me, Chat Noir, Kick Up, perché è un ammaestratore di raghi, lo straordinario mondo di Gumball, Batman, Tony Stark, H.Iron Man, Ladybug, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, perché è forte, Thor, Batman, Hulk, Iron Man, Spider Man, Spider Man, Super Girl, perché, diciamo, è tipo Superman, però Super Girl, femmina. Ah, ah, ma come si chiama? Eh? L'invisibilità 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 Vorrei poter diventare invisibile per sembrare assente durante le verifiche a scuola La super vista Di lanciare l'oser dagli occhi Tornare in grado del tempo, perché così posso vedere tutte le civiltà antiche Poter viaggiare nel tempo e anche avere l'araniatele Teletrasporto Teletrasporto Il teletrasporto perché sono una pigluna Volare Quelli di Capitan Marble Vola quando fa una luce smaiante e fa pugni luminosi Ciao A tutti Ciao 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 Grazie a tutti.